Allora, l'opening talk di apertura della 88esima FIRA si è occupato del tema dell'omnichannel, quindi della multicanalità, come forma di marketing. In sostanza significa che un'azienda oggi che produce sul mercato deve diversificare la strategia per far raggiungere i propri prodotti il consumatore. Uno stesso prodotto deve essere disponibile nelle varie modalità, online, negli outlet, nei fast fashion cittadini, in tutti i luoghi, potenzialmente con prezzi anche non troppo diversi. Un'altra delle cose che è emerso in questo convegno è che il protagonista principale della multicanalità è il web. Oggi i grandi player del web, tipo Amazon per esempio Alibaba, sono diventati i grandi protagonisti dell'acquisto a livello mondiale per tutti i prodotti merceologici, per quanto riguarda le calzature forse in maniera ancora più spinta che in altre.